Buongiorno a tutti. Oggi è venerdì 14 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzinib. Partiamo da quest'ultimo. Ieri abbiamo finalmente avuto il movimento che mi aspettavo di discesa già il giorno precedente, per cui comunque non avevamo preso lo short perché non c'era stata una violazione di questo minimo a 20.150 e abbiamo lasciato scorrere fino a quando ha voluto. Ieri invece abbiamo visto che finalmente non c'erano più aggiornamenti dei massimi e abbiamo continuato a scendere per chiudere appunto un primo decimo T-3 ribassista, finalmente un ciclo ribassista dopo 1, 2, 3, 4 rialzisti. Adesso, dato che la condizione minima per la chiusura ce l'abbiamo, bisogna fare attenzione a che cosa sarà questo se l'undicesimo T-3, come immagino, e se avremo finalmente un po' di spinta di inverso dall'alto, esattamente come già pronosticato ieri e l'altro ieri in anticipo probabilmente. Per quanto riguarda i future, che contano poco perché in questo momento siamo distanti quasi due ore dall'apertura, comunque sono a meno 64 punti su Fuzzinib e a meno 28 su DAX. Per cui, se andassimo a confermare un'apertura del Fuzzinib e Bapton ai 20.252, andremmo sotto questo minimo a 20.279 e avremo un T-3 vincolato a ribasso per il resto della sua durata. Il resto della sua durata significa che dalle ore 15.30 di ieri abbiamo già consumato due ore e quindi avremo ancora circa un 5.30-6 ore minimo per poter continuare ad aggiornare i minimi in caso appunto di apertura con questo genere di future ribassisti sotto il minimo indicato. Questo vi fa capire quanto l'analisi ciclica abbia una marcia in più rispetto anche soltanto all'analisi tecnica per il fatto che è un controllo relativo anche al tempo, non soltanto al quanto si può scendere ma al tempo. Altra cosa importante, abbiamo violato un piccolo swing, lo swing importante per una prosecuzione eventuale del ribasso è dato dai 20.145, in caso andassimo rapidamente sotto questo minimo e confermassimo con volumi potremmo avere un'ulteriore spinta a ribasso per oggi e anche eventualmente per lunedì mattina ma bisogna vedere un attimo quanto potrà durare appunto eventualmente questo undicesimo T-3 se seguirà qualche cos'altro. Ricordiamoci sempre che è più rischioso fare operazioni a ribasso rispetto al rialzo ma non quando ci sono delle chiusure cicliche importanti come eventualmente anche soltanto appunto un qualche cosa di inverso tipo un T2 mensile inverso, nel nostro caso, piuttosto che quando si va a chiudere almeno un settimanale e per il resto andiamo a vederci un attimo ancora il grafico a candele giornaliere allora, per quanto riguarda il grafico a candele giornaliere siamo a questo punto, ovvero siamo arrivati anche in questo caso alla condizione minima per la chiusura di un settimanale, eccoci qua e siamo arrivati già a 9 barre su massimo 11, quindi iniziamo ad essere già avanti come tempo dall'altra parte avete un calcolo più avanzato perché ci sono stati dei raccordi. Per quanto riguarda invece l'inverso che cosa abbiamo? Abbiamo che da questo massimo per ora siamo arrivati a 17 più 1 candela e quindi siamo arrivati oltre gli 8 più 8, i 16 giorni di bisettimanale tempo medio di durata e quindi dovrebbe esserci una potenza di un secondo T più 1 inverso che richiede perlomeno un T meno 1 inverso rialzista, ovvero una discesa per oggi e eventualmente lunedì oltre alla giornata che abbiamo già avuto che assomiglia peraltro a una shooting star. Per cui questo è ciò che mi aspetto per i prossimi giorni il target è questo qua per ora a 20.121 punti, questo è il target ottimale minimo che dovremmo poter andare a fare se proseguire appunto il ribasso perché attenzione perché in violazione di determinati swing non ci metteremo sicuramente a ribasso e in un'eventuale non violazione di questo minimo non scenderemo, non andremo a fare operazioni short vediamo il DAX. Per quanto riguarda il DAX la situazione è questa abbiamo un undicesimo T meno 3 potenzialmente già vincolato al ribasso e arrivato a dunque a 20 bar, anzi scusate, abbiamo un undicesimo T meno 3 che ha fatto il suo minimo alla vintunesima bar e quindi non ha chiuso, ok? Per cui se avremo una prosecuzione di discesa l'avremo almeno per andare oltre le 28 barre e dovremo andare ancora per oggi sotto questo minimo 12.956 per andare a chiudere, ok? Per cui anche in questo caso è vero che i future sono solo a meno 25 punti però il discorso del vincolo dell'undicesimo T meno 3 con un ribasso ci dice che dovremmo proseguire a scendere almeno per la durata media del ciclo stesso ovvero un 32 massimo 44 barre. Per quanto riguarda il grafico candele giornaliere, eccolo qua, siamo in una situazione molto simile rispetto a quella del Fuzzimib per cui non sto praticamente a commentarla e abbiamo non una doge ma un qualche cosa di simile essendo già arrivato a 16 più, anzi a 17 più una barra anche se ci potrebbe essere una scomposizione alternativa per cui il terzo T inverso sarebbe già arrivato comunque a 6 candele anche se non avrebbe chiuso perché non avrebbe fatto un massimo sopra i 13.101 per cui anche per il nostro DAX mi aspetto comunque un'eventuale discesa per oggi attenzione soltanto a che oggi è venerdì di un periodo estivo dove ci sono pochissimi volumi e quindi il rischio è decisamente più alto fate soltanto attenzione, d'accordo? Eventualmente se perdesse lo short valutate poi di rimontare long dopo che si sarà sfogato ovviamente l'inverso vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata